salve buongiorno eccoci qua in questo nuovo anno con l'anno 2024 che è anche l'anno del turismo delle radici e quindi quale migliore opportunità per sentire paolo masini che il presidente della fondazione del museo dell'emigrazione italiana di genova buongiorno a voi buon anno buon anno buon anno anche a tutti i nostri ascoltatori che so che sono sempre più numerosi e dai diversi continenti non solo dall'america e dall'argentina in particolare solare perché questa è una trasmissione che realizziamo per conto del consolato generale di buenos aires allora il museo dell'emigrazione di genova ha visto una bellissima definizione la più grande operazione di narrazione popolare collettiva del nostro paese una frase ottima prima di addentrarci in questa realtà così stimolante vorrei chiederle quindi lei sappiamo è nata a roma però con genova è iniziato già un rapporto no allora cosa ci può parlare cosa ci può dire di questa città genova una città particolare incredibile e devo dire molto affascinante è una città che affonda le proprie radici nella storia addirittura il porto per lo meno l'inizio di di un'ansa ospitale per i popoli dell'epoca che devono andare poi in seguito a marsiglia e le radici affondano nel quarto quinto secolo avanti cristo e poi man mano diventa una città molto importante chiaramente favorita dalla presenza dal del porto perciò come tutte le città di porto diventano un fulcro un fulcro centrale anche per le contaminazioni anche culturali oltre che mercantili e perciò una città importante diventa nei secoli successiva una delle quattro eh città marinare insieme appunto a Malfi Venezia e le altre ehm ed è un luogo davvero di grande contaminazione e anche per quello si è voluto far nascere questo museo in quella città così particolare lo ricordo il museo nazionale pertanto il museo ufficiale dello stato italiano il governo italiano rispetto ai temi dell'emigrazione altre potevano essere eh le città adatte eh penso a Napoli penso a la Sicilia ma eh credo che la scelta del nostro governo sia si sia basata sul fatto che da lì veramente le prime emigrazioni sono partite da lì le grandi compagnie di navigazione sono nate pertanto forse è una scelta giusta anche se appunto eh si poteva fare altrove anzi eh c'è una novità che Napoli si sta muovendo per fare anche un grande museo delle migrazioni il nostro il museo nazionale pertanto sta come dire lavorando come un grande hub dell'emigrazione italiana coinvolgendo anche tutti gli altri musei regionali che ci stanno e il grande lavoro che si è fatto negli anni precedenti. Ecco perché appunto allora Genova ha una vocazione marinara sin dall'inizio d'altronde tutta quella golfo che si apre no? Su mare il mar Ligure è splendido posti meravigliosi penso che ormai sono molto conosciute non so Portofino Santa Margherietta Ligure San Remo no? Tutta la costa Ligure è splendida. Genova in particolare è diventata una città molto forte nei traffici commerciali in età appunto si parlava prima del periodo del medioevo delle città marinare dei comuni marinari poi però ci sono anche i pellegrinaggi quindi la commenda di San Giovanni di Pre cosa possiamo sapere un po' di questa della storia di questo palazzo? sì allora la scelta prima appunto abbiamo detto sulla città poi c'era l'esigenza di scegliere un posto iconico un posto rappresentativo e appunto abbiamo scelto insieme al comune di Genova perché eh lo voglio sottolineare è un progetto che parte dal Ministero della Cultura ma vede dentro il Ministero degli Esteri chiaramente e la regione Liguria perché siamo lì e il comune di Genova che è l'ente capofila e perciò eh abbiamo scelto come luogo la commenda di Pre la commenda di Pre il luogo lo sottolineava un po' lei prima da dove partivano i i pellegrini religiosi per la Terra Santa li stazionavano quella era una zona di luoghi anche di osterie di luoghi di dove poter mangiare prima di lungo viaggio e pertanto è stato scelto quello poi negli anni quel posto che è appunto del medioevo e medievale bellissimo eh una palazzina di tre piani che abbiamo ristrutturato per fare questo museo in pieno accordo con la sovrintendenza pertanto rispettando eh come dire la vocazione anche architettonica con la quale era nata però siamo riusciti anche a inserire eh all'interno di quella bellissima eh architettura delle modalità utili il nostro è un museo molto virtuale eh si basa molto su elementi visivi non non ci troverete non ci troverete le valigie o o cose fisiche ma ci troverete centinaia e centinaia di storie di donne e di uomini che sono partiti per scelta per obbligo per fame per le leggi razziali per tutti i motivi per i quali si è andati via dall'Italia ci troverete tutte queste storie incastonate però è dentro quel luogo bellissimo cioè un detto al quale tengo molto che dice il futuro ha radici antiche forse stare anche lì in quel posto così importante storicamente ci aiuta a capire anche che l'immigrazione poi è un fatto naturale che è nato dal dalla nascita dell'uomo ecco sì appunto perché bisogna lei prima citava i vari musei regionali adesso elencarli tutti è un po' faticoso sappiamo che vent'anni fa Gualdo Tadino nell'Umbria con la collaborazione anche degli Umbri nel mondo le associazioni centro Umbro di Buenos Aires mi ricordo c'è tenere molto molto orgoglioso di questa e questo luogo a Gualdo Tadino poi Belluno le Marche insomma e ne stanno anche nascendo altri a livello regionale però il museo dell'emigrazione un museo nazionale dell'emigrazione italiana con la sua sede a Genova e con tutto questo sostegno questa possibilità di agire ufficialmente per conto dello Stato italiano no si presenta in modo diverso anzitutto perché vuole essere rappresentativo del fenomeno che ha coinvolto tutti comunque e su tutte le scale sociali anche no quindi regionale sociale eccetera però io credo che esista giustamente questo lo vorrei sottolineare l'ha appena detto però ehm voglio tornarci la la possibilità di sfruttare la multimedialità per un'esperienza diversa ecco allora sì innanzitutto torno un attimo eh sulla cosa che lei giustamente sottolineato dei musei regionali noi come primo approccio nel comitato di indirizzo eh abbiamo formato un comitato di indirizzo che desse proprio l'idea della collegialità nelle scelte e nel tener conto delle esperienze regionali anche nei piccoli paesi che si sono state fatte spesso a mani nude con grande passione con difficoltà per tenere aperto quel museo insomma c'è un lavoro dietro giustamente dietro di migrazione fatto anche di sudore pertanto come primo atto eh non solo simbolico abbiamo chiesto proprio a Katia Monacelli che è la direttrice di Gualdo Tadino di stare nel nostro comitato di indirizzo e abbiamo realizzato più di cinquanta protocolli di intesa in Italia e all'estero dove abbiamo vari accordi in Italia in pratica con tutti i musei presenti e all'estero con le varie case Italia e tra l'altro in questi giorni fino a febbraio c'è proprio la mostra degli umbri nel mondo che abbiamo inaugurato poco tempo fa eh perché perché quel bel museo quel piccolo scrigno umbro eh dedicato a dedicato a Piero Conti compie quest'anno vent'anni di attività e ci sembra giusto celebrarlo nel migliore dei modi però c'è una grande attenzione appunto ai musei locali e regionali anche quelli che si stanno aprendo lo dicevo prima noi stiamo pensando un po' al museo nazionale dell'immigrazione come un hub pertanto ci mettiamo a disposizione anche con le nostre competenze per dare una mano a chi sta nascendo rispetto all'altra cosa della multimedialità è è chiaro che stiamo cogliendo eh spero al meglio le le indicazioni sulla museologia moderna eh pertanto un approccio molto diverso molto interattivo anche perché viviamo in un mondo come dire in continuo cambiamento lo vediamo con i nostri figli e con i cellulari che hanno in mano e perciò si entra nel museo si ha un braccialetto elettronico con il quale si attivano i vari totem dove si scoprono le varie le varie storie addirittura l'ultimo piano è un piano anche molto ludico diciamo c'è un grande scivolo che ti fa attraversare eh un attimo la storia eh abbiamo molte visite di ragazzi di studenti di bambini eh non solo italiani ma spesso da quando siamo nati recentemente grazie agli accordi anche con le scuole internazionali eh riusciamo a fare insomma visite che fanno piacere molto anche a noi perché poi mh si rendono conto i ragazzi di far parte di una comunità in cammino oserei dire no c'era eh mi ricordo Walter Veltroni quando era sindaco diceva ehm ai miei tempi faceva notizia se il suo compagno di classe era marchigiano eh è un po' così è un mondo in continua evoluzione e là si si palpa con strumenti innovativi e devo dire a volte anche eh divertenti si si sanno si conoscono le storie davvero di donne e di uomini storie incredibili di successo di successo di razzismo del razzismo che hanno avuto gli italiani quando sono andati all'estero insomma si si ha un'idea abbastanza chiara di quello che è avvenuto anche attraverso i gli interventi dei politici nel corso degli anni dall'unità d'Italia ad oggi ci sono gli interventi dei grandi politici sul tema migratorio e pertanto è un ragionamento a trecentosessanta gradi della nostra migrazione Il mondo universitario oggi nei confronti della migrazione italiana un po' in tutta Italia è riuscito già a elaborare una serie di studi di analisi di esami molto molto ricca no quindi le premesse eh sono sono ampiamente impaggianti molte delle università italiane direi praticamente tutte eh come dire stanno cominciando ad affrontare questo tema in maniera molto rilevante e molto approfondito non a caso insomma molti dei professori universitari collaborano con noi in una rete in un percorso comune che sta andando avanti ma voglio dire anche di più molti dei PCTO che è un termine un po' brutto ma eh rappresenta appunto l'ex eh percorso di alternanza scuola lavoro per gli studenti italiani si si badano sulle migrazioni pochi giorni fa ne abbiamo chiuso uno insieme alla banca d'Italia lo voglio raccontare perché rappresenta c'è un aneddoto bello rispetto a questo e e appunto il il dottor Chirico che era il responsabile per Banca d'Italia di tutto questo percorso aveva proposto ai ragazzi di portare degli oggetti era con la scuola proprio in Argentina eh con la scuola italiana in Argentina degli oggetti eh relativi alla loro alle loro tradizioni familiari hanno portato chi veniva dall'Abruzzo lo strumento per fare la pasta le fotografie eccetera all'interno di tutto questo percorso eh che non riguardava tanto i ragazzi ma quanto la banca eh abbiamo scovato il lo statino di lavoro di Mario Bergoglio il babbo di Francesco e abbiamo tramite l'osservatore romano consegnato al Papa fatto consegnare a al direttore Monda che ringrazio eh fatto consegnare questo statino e devo dire c'è stato detto insomma che il Papa si è commosso e addirittura commentato rispetto al fatto c'era una parte relativa ai commenti alle note sul dipendente e c'era scritto che era molto molto eh diligente e il Papa ha commentato dicendo lo credo con quella mamma che è la famosa mamma tua nonna di cui parla sempre Papa Francesco intanto attraverso questo percorso riusciamo a trovare anche chi che ma anche devo dire lui il Papa si è emozionato ma come si emozionerebbe emozionerebbe qualsiasi di noi ritrovando un pezzo della storia della propria famiglia un po' quello fa il Museo dell'immigrazione raccogliere le storie di famiglia e lo vediamo adesso noi in questi giorni stiamo seguendo un progetto che proprio per l'anno del turismo nei radici riguarda in questo caso una ragazza brasiliana Taisa che sta rifacendo il percorso che fece il suo nonno eh italo brasiliano che era poi tornato in Italia per combattere a fianco delle forze alleate la guerra di liberazione e lui in ogni città passava scriveva una cartolina appunto alla famiglia e mh teneva un diario quotidiano la ragazza ha trovato questo sia il diario che la cartolina adesso come Museo Nazionale dell'immigrazione la stiamo accompagnando in questo viaggio incredibile perché stiamo trovando anche le persone che aiutarono il nonno pertanto chi lo faceva dormire a casa che gli dava da mangiare e è questa è una comunità in cammino è una comunità in cammino e devo dire la solidarietà e l'umanità e l'altruismo dell'Italia insomma è stata quando ci si mette insomma l'Italia è un paese un bel paese e lo stiamo riscoprendo anche in questo viaggio sì è molto interessante tutto questo discorso prima quello che si diceva prima che lei diceva prima del PCTO che forse converrebbe un po' precisare perché è una sigla che per alcuni può essere ostica sono dei progetti specificamente pensati per la scuola superiore e che servono per l'orientamento quindi in questo caso c'è un contatto molto diretto con la realtà dell'Italia attuale quindi anche parlare di migrazione non è solo un valiosissimo recuperare documenti testimonianze di un passato recente di un passato anche emozionalmente molto intenso ma è anche un modo per entrare per cogliere no le dinamiche di quello che sta succedendo oggi giorno in Italia in Europa in tante altre parti del mondo perché questi queste continue no arrivi tra sono un po' sono la caratteristica di molte regioni no quindi la tema migratorio ebbene soffermarsi a riflettere a ragionare questo scivolo che accoglie il visitatore che vuole immergere no in un'esperienza del passato ma anche in una dimensione nuova per osservare il fenomeno siamo in un mondo siamo in un momento del mondo in continua evoluzione ma come l'ho stato da sempre io credo che la parola emigrazione o immigrazione cambia a seconda della da quale parte di costa sta in quel momento lo stesso fenomeno sì la stessa persona ecco di fatti il museo è stato inaugurato a primavera del 2022 giusto a maggio 2022 ha già percorso come museo aperto un anno e mezzo ma la storia di questo museo l'organizzazione eccetera risale a diversi anni prima no quanto tempo ci avete lavorato per il creare beh è un progetto che parte da prima dal precedente governo e dal ministro Franceschini e pertanto parliamo credo del duemila quindici sedici abbiamo cominciato a lavorarci e prima trovando i denari e chiaramente poi trovando il posto la ristrutturazione pertanto in è partito tutto credo dal duemila sì diciassette forse non mi ricordo i primi atti e con un accordo di valorizzazione siglato fra i vari fra i vari enti e poi forse la data più emozionante è stata finalmente la firma della fondazione dal notaio col presidente Toti con sindaco Bucci e con i rappresentanti degli altri degli altri partner e da lì insomma è stata messa davvero la la prima pietra e poi seguire prego mi scusi presidente della regione Liguria Toti scusi presidente della regione Liguria sindaco Bucci sindaco di Genova di Genova ok perciò da lì con una condivisione totale anche in quel caso trasversale e serenissima e poi il lavoro è andato avanti con i lavori di ristrutturazione che sono stati molto delicati ripeto stiamo parlando di un edificio del 1200 pertanto con tutto ciò che ne consegue eh sono tre piani giusto? sono tre piani sono tre piani e poi quello che dicevo prima tutto il lavoro dei dei protocolli di intesa ma lo diceva lei prima l'immigrazione ha tante facce noi ci siamo eh abbiamo fatto un grande lavoro anche sullo sport mi piace dirlo eh una trasmissione che riguarda l'Argentina inaugurata dal presidente del CONI Giovanni Giovanni Malagò e e nei prossimi giorni verrà anche il ministro dello sport Andrea Bodi un lavoro importante perché consideriamo che lo sport sia stato strumento anche di integrazione soprattutto quello di squadra chiaramente notevole per i nostri italiani ecco appunto allora facciamo un bel approfondimento sullo sport primo perché confesso sono una di quelle atlete che andava a fare i giochi della gioventù a Buenos Aires recentemente mi è capitato poi di tornare a Buenos Aires questa volta come insegnante alla Colombo e quando arriva la settimana dei giochi della gioventù nelle scuole italiane c'è uno spirito veramente è molto molto sentita questa questa iniziativa poi è una delle poche volte in cui tutte le scuole italiane sono insieme in uno spazio si vedono interagiscono tra di loro sono un po' agguerriti con le scuole di calcio speriamo che siano competizioni insomma dal punto di vista competitivo regolare diciamo senza troppi però effettivamente è un'esperienza che segna no? segna i ragazzi adolescenti quindi lo sport e le migrazioni come nuovamente attraverso lo sport questa identità di Italo e qualcos'altro Italo Argentino Italo Uruguayano Italo Cileno Italo Brasiliano insomma ci sono Italo Francese Italo Svizzero ci sono queste identità che si vanno un po' plasmando e riconoscendo e l'altra cosa bellissima riguarda bocca d'asse perché? sì sono tantissime le cose a volte anche divertenti ma dall'idea anche di quando come dire da un da un'ispirazione da un nasca poi qualcosa che una volta che che va non prende strade che non sono non capiamo nemmeno dove possano finire quando parti e no nel caso di Bocca d'asse ma anche del river eh Bocca d'asse appunto dobbiamo spiegare Bocca d'asse sì Bocca d'asse è un quartiere bellissimo di Genova che ha ispirato anche canzoni eh bellissime e e forse una conferma della in questo caso della giustezza di aver realizzato il museo dell'immigrazione a Genova e molti degli emigranti genovesi e liguri sono andati in Argentina tanto che a un certo punto uno dei quartieri eh di Buenos Aires più famoso si chiama Bocca sul riacuelo proprio per prendere proprio prendendo il nome dai i ragazzi dal dai genovesi di di Bocca d'asse e poi gli stessi appunto hanno formato una squadra che adesso un po' famosetta che si chiama il Bocca Junior formata da ragazzi liguri ma addirittura ancora oggi i tifosi del Bocca vengono chiamati Xenesi io credo sia una storia incredibile noi la raccontiamo molto perché abbiamo fatto una serie di accordi e tra l'altro questo oltre a essere l'anno del turismo delle radici è anche per Genova l'anno di capitale europea dello sport e da Genova dalla Liguria è partito tanto sport ma lo stesso River Plate che diciamo il la squadra più agguerrita contro il Bocca nasce da altri dicuri che si sono staccati poi hanno fatto quella squadra ma sono tantissimi in questi casi fino ad arrivare ai Carboneiro la squadra dei appunto dei di chi lavorava il carbone anche rispetto ai temi di altri sport rispetto al calcio anche le bocce la vela il canottaggio pertanto c'è tanto di taglia anche dello sport come dire mondiale una cosa che non riguarda nello specifico l'Argentina ma tutta questa storia dello sport emigrazione mi piace ripeterla è quella che riguarda il Pegnarol il Pegnarol che è un'altra grande squadra del Sud America si chiama così perché è fondata da persone di Pinerolo c'è una chicca importante perché l'altro anno lavorando con Home Movies che è una società un'associazione bolognese che lavorò molto sul recupero dei filmini di famiglia abbiamo rinvenuto un filmino che era buttato in una cantina di una persona nella Valtellina e che invece andandolo a analizzare nel migliore dei modi risultava essere l'unico documento al mondo della tournée del Genova Calcio in Argentina e in Uruguay del 1923 esattamente cento anni dopo noi abbiamo trovato questo documentario l'abbiamo restaurato l'abbiamo presentato alla stampa in forma come dire in un piccolo trailer abbiamo mandato il tutto il documentario dura 23 minuti e lo mostreremo in anteprima mondiale appunto a Buenos Aires quando verremo bellissimo è una cosa emozionante anche perché ci sono persone in particolare chiaramente i tifosi del Genova l'abbiamo fatto insieme alla fondazione Genova che che ringrazio e c'è una persona in particolare che ha scritto un libro su quella tournée ma basandosi solamente sui giornali sui racconti eccetera e vedendo dal vivo quelle persone che lui raccontava nel libro chiaramente si è si è commosso e e lì partivano questi calciatori che erano fortunati non come quelli di adesso ma erano eh persone che insomma eh erano un po' più fortunati partivano da Genova con le valigie piene di lettere da dare ai tantissimi genovesi e liguri che erano lì e vedere quelle immagini di spalti strapieni stadi strapieni di persone per raccogliere quella squadra le strade affollate di Buenos Aires che osannavano questi giocatori del Genova insomma ti dà l'idea di cosa ha rappresentato per quelle persone perché adesso è facile io stesso in famiglia ho molti esempi di gente che sta all'estero che però senti con whatsapp torna con l'aereo vengo domani fa otto ore sto lì anche sta dall'altra parte del mondo lì era gente che partiva senza avere i primi proprio senza avere certezze arrivavano eh giorni e giorni di viaggio arrivavano scrivono la lettera la lettera tornava altri giorni giorni di viaggio cioè a noi fa bene il museo una cosa delle cose che piace di più a noi e che ti fa capire il sudore la fatica il coraggio di tanti italiani che hanno fatto una scelta incredibile se ci pensiamo adesso non so in quanti la farebbero adesso è facile andare all'estero magari dopo aver mandato una mail o un whatsapp aver trovato perlomeno un posto dove dormire la partivi a meno che come poi spesso è accaduto perché poi si anche i paesi in blocchi passavano perché magari era andato il tuo il tuo zio il tuo cugino allora dopo seguivi hanno fatto davvero una cosa importante pertanto il nostro grande 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 come dire riconoscimento va a tutte queste donne e questi uomini che hanno fatto scelte coraggiose anche mi viene in mente adesso parlavamo di sport di Don Lorenzo Massa che è il sacerdote salesiano che ha fondato il San Lorenzo che poi è la squadra del Papa Don Lorenzo Massa parte lui nasce in Argentina i genitori sono italiani e piemontesi lui nasce in Argentina e poi gli danno appunto questa questa piccola chiesa in quel quartiere dove tira fuori i ragazzi dalla strada no anche ragazzi un po' no borderline e da lì mettendo un po' di pesos per uno formano la squadra poi e diventa il San Lorenzo che è un'altra delle grandi squadre argentine fondata anche questa in qualche maniera da da un italiano pertanto la storia dell'immigrazione è davvero meravigliosa se sappiamo eh coglierla al meglio e capirla al meglio ci aiuta anche a capire i fenomeni come diceva lei prima attuali del mondo fa fa molto bene ecco ecco e tra l'altro parlando di sport parliamo di un terreno di dialogo non attraverso parole di persone diverse che si trovano a misurarsi con regole condivise no perché fondamentalmente lo sport è questo un incontro in cui ci si misura secondo certe regole e lo sport ha aiutato moltissimo no nel nel conoscere l'altro che è anche una funzione di fondamentale del o comunque un'esigenza importantissima in questo contesto c'è un altro settore dopo eh con questo penso che possiamo chiudere in bellezza questa meravigliosa conversazione che che si potrebbe protrarre anzi sicuramente si protrarrà nel corso del duemilaventiquattro ogni volta che ci sarà qualcuno che in Italia verrà a visitare a Genova il museo oppure le occasioni in cui la delegazione del museo andrà in giro no per a incontrare le collettività di italiani e portare avanti tanti progetti ma è la musica anche la musica per questo fatto di è un recupero cioè sappiamo venezuela c'è chi attraverso la musica recupera i ragazzini della strada no quindi perché nobilita l'uomo no l'ascolto l'abitudine a seguire e l'armonia che poi viene fuori dalla musica sono tutti dei valori importantissimi e e il migrante la musica lei cosa no innanzitutto rispetto a quello che diceva del venezuela eh grazie a Dio il sistema brevo adesso è diffuso in tutto il mondo anche in Italia eh viene utilizzato molto nelle periferie italiane soprattutto uno strumento rivoluzionario davvero beh la musica è tanto è davvero tanto è la cosa che permetteva ai nostri emigranti di rimanere ancora legati eh alla propria terra ma lo vediamo anche adesso rispetto alle ehm riunioni anche zoom che facciamo con conferma di quello che dicevo prima eh con gli gli strumenti moderni ti capita di parlare con italiani cioè italodiscendenti di seconda o terza generazione che magari non parlano bene italiano ma parlano molto bene il dialetto e sanno molto bene le canzoni perché le ha insegnate la nonna è una cosa che passa e sulle canzoni stiamo facendo un lavoro importante perché stiamo raccogliendo appunto tutte le canzoni anche con il sito sempre del ministero canzoni italiana punto it tutte le canzoni eh che hanno in qualche maniera eh segnato le partenze no no non solo da se che penso dei genovesi ma alle mille altre canzoni anche moderne penso anche a ai cantatori più moderni eh più di questi ultimi decenni che hanno raccontato l'emigrazione eh ma anche la stessa opera che viene che il prossimo anno sarà nei duecento anni dall'opera esportata in America eh anche canzoni come dire meno popolari e più colte tra virgolette che hanno però che poi mantengono anche i nomi no i nomi nell'opera le definizioni tecniche sono ancora detti in italiano assolutamente ma alla parte come dire popolare della grande canzone italiana che raccontava raccoglieva eh l'altro anno abbiamo onorato ci piace molto stare sui come avrà notato sugli anniversari abbiamo onorato un paio d'anni fa il centenario di Caruso e lo abbiamo fatto proprio cercando di attualizzarlo perché la memoria ha senso se non rimane con lo sguardo rivolto al passato ha senso se ci insegna qualcosa e ci permette di guardare oltre e l'abbiamo proprio ricordato eh facendo un musical su Caruso al al Festival di Nervi che è un luogo vicino Genova bellissimo e con il sistema breu pertanto abbiamo portato i ragazzi di varie parti del mondo che stanno in Italia adesso a fare questo musical bellissimo proprio per dire tutto questo concetto attraverso la musica sì parlare di Caruso di quello che ha portato poi quello che di fatto ha inventato il stato il primo imprenditore musicale per appunto realizzando i suoi dischi eh però attraverso i musicisti di oggi lo stesso direttore d'orchestra di quel Caruso lì del nostro Caruso era un come dire un discepolo di Abreu e un pertanto un ragazzo che aveva studiato con Abreu pertanto è stato davvero una cosa emozionante proprio venezuelano che veniva proprio da una situazione delicata di una periferia venezuelana eh eh quanto quanto sono importanti questi piccoli eh perché sembrerebbe lì per lì qualcosa di non particolarmente eh eppure hanno una potenza questi concerti queste questi spettacoli no vi dirvi eh ricompattare certi valori della società che è qualcosa di poi per i ragazzi il il progetto è nella formazione del percorso che porta poi allo spettacolo ma i ragazzi cambiano cambiano gli rimane dentro questo concetto e poi per fortuna magari prendono laddove l'avessero sbagliata la strada un po' più giusta ecco quindi è importantissimo ed è bellissimo sapere che c'è tanto appoggio e mi risulta che nel qualche mese fa ci sia stato un un'iniziativa nel museo dedicata al tango allora eh l'immigrazione l'abbiamo detto cioè qualsiasi argomento prendi puoi arrivare all'immigrazione stiamo lavorando sulla viticultura portata dagli italiani all'estero per una prossima iniziativa e no il tango in occasione della giornata mondiale del tango abbiamo fatto questa iniziativa con le scuole in questo caso genovesi di tango e però l'abbiamo fatto in un noi abbiamo una questione tecnica che stiamo risolvendo nel senso che il museo è bellissimo ma manca una parte diciamo eh dove poter fare eh iniziative con tante persone dalle proiezioni di film ma la stiamo risolvendo acquisendo una parte attigua un'ex chiesa attigua al museo e nel frattempo siamo utilizzando e devo dire che la cosa ci piace molto la sala dei continenti è una sala bellissima eh tutta con un arredamento in legno che formano i che forma i vari continenti nei quali eh continenti sono incastonati dei video eh dei degli schermi dove si possono appunto seguire col sistema che dicevo prima le varie storie e abbiamo scelto di fare questa come le prossime iniziative perché la prima è stata col tango nella sala dei continenti pertanto vedere questi ballerini ricordando anche qui Piazzolla torniamo sempre in Italia ricordando Piazzolla in questo caso le origini erano pugliesi dei genitori ricordando Piazzolla vedere questi ballerini bravissimi magari non forse eh eh magari sbaglio a dirlo in una trasmissione in Argentina però bravini diciamo eh bravini eh che roteavano intorno ai continenti è stata davvero una cosa emozionante è una cosa che sta andando anche bene dal punto di vista del del pubblico e sia attraverso il momento specifico sia poi nei nei video che vengono realizzati e che e che girano e stiamo e stiamo diffondendo insomma perché poi l'idea è anche far uscire il mei dal mei pertanto abbiamo un grande progetto in testa del mei che gira il mondo che speriamo che nel duemila ventiquattro veda luce. Ah ma che bello allora noi abbiamo fatto una lunghissima eh conversazione in cui abbiamo visto com'è faticoso portare avanti un progetto perché dal duemiladiciassette covid di mezzo poi però siete arrivati comunque ad una realtà inaugurata nel duemilaventidue che ha già un suo pubblico abbastanza attento di tutte le età quindi tutti gli italiani insomma chiunque si trovasse a Genova oggi eh una tappa al Galata che il museo specifico del mare e la vicino al museo eh di il cui direttore tra l'altro che ringrazia lo stesso è Pierangelo Campodonico che è il direttore bravissimo di entrambi i musei pertanto adesso ringrazio sia lui che chiaramente il ministro San Giuliano che ci sta seguendo insomma il lavoro prosegue al di là di tutto perché mare ehm conoscenza cultura del mare della navigazione migrazione sono elementi strettamente correlati quindi quella è una un inizio una tappa una meta per eh chiunque visiti Genova e sarà sicuramente estremamente ne verrà fuori con molta molta informazione e anche con qualcosa di molto emozionante però abbiamo anche capito che non è qualcosa legato solo al passato ma è anche un'esperienza che può proiettarsi verso il futuro e può portare a nuovi incontri ehm e che quindi il sito del museo eh della nazionale della migrazione è anche un bel contenitore di tanti ehm tanti date tante informazioni eh in particolare ho visto una sezione che si chiama testimonianze giusto? Sì lo dicevo all'inizio eh noi raccontiamo storie ci piace parlare delle immigrazioni attraverso le migliaia di storie adesso siamo nel fidale ma potrei raccontare tante storie meravigliose eh una riguarda anche eh Bauli che insomma è abbastanza conosciuto che a Buenos Aires appunto andò prese i suoi macchinari partì da eh da Verona appunto il giovane Bauli andò in provò ad andare in Argentina visto che la cosa poteva funzionare è ritornato in Italia prende tutti i macchinari li carica sulla nave purtroppo era la principessa Mafalda che affonda pertanto i macchinari vanno a fondo lui si salva e lo salvano va in Brasile fa l'autista per un periodo per raccogliere un po' di fondi torna a Buenos Aires apre un bar al centro di Buenos Aires comincia a lavorare poi vanno va bene decide di tornare in Italia e poi insomma sappiamo tutti eh la storia come adesso ce la troviamo a Natale sui nostri tavoli sulle nostre tavole pertanto è è costellata da da centinaia di storie eh bellissime a volte tragiche a volte di successo a volte di successo dicevo ma è è così è la vita la marcia dell'uomo va in questa direzione e quindi una possibilità di fruire anche da fuori per chi è distante da Genova fruire di tutte queste meravigliose storie informazioni come premessa ad una visita che prima o poi eh speriamo possa avvenire per tutti quelli che ci hanno ascoltato eh presidente Masini eh le sono molto grata per questa bella conversazione e anche per tutto lo sforzo e l'entusiasmo la passione che c'è in che in questa scommessa in questo progetto meraviglioso grazie grazie a voi dell'opportunità di farci conoscere benissimo allora buon duemilaventiquattro a tutti voi grazie iscriviti al canale